che però non c'ho la chiave, porca di guai se no mi faccio una sopravvivenza del vetto il piccolo mi serve per fare lì per prendere le lec adesso chiave, dragozop chiave difesa ok ritorno qui in cattura assassini, trapposaggio non avevo mai la difesa difesa mobili sabotaggio quanto me ne tengo lì, questo è il mio ok chieda un po' che non le faccio, vediamo allora, cattura difesa e sopravvivenza ti danno nel relic il resto non c'è un cazzo non serve per altre cose per le mode corrotte allora andiamo col mirage ce l'avevo, ce l'avevo, ce l'avevo mi ha detto allora andiamo un attimo intanto intanto gli altri giocano i ragazzi in oro vediamo vediamo che bello mi ha detto mi ha detto che palle mi ha detto 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 la cosa più facile che c'è se ci riesco qua ci vuole un po' di musichetta se ci riescono ok papà 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 in due si potrebbe fare anche con un vago sinceramente questa per il momento è una cagata e dopo la ventesca che diventa proprio più complica che ci riesco a non ci riesco e ci riesco a a Facile, facile, è una difesa, facile, facile. Hox, esplorzano. Abilità, 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 abilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non è qua l'altra. Grazie a tutti. No, non è qua. Ok. Non è qua. Ancora. Non è qua. 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 battaglia quanto era il coso? quanto era, quanto era, quanto era in difesa è tutta la A bello, mi piaciuto e in difesa sono la C quindi A, B no, A, A, B, C che è la terza come esplodono bene mi ha un piacere ciao sono le palline che ti diverti è il gioco nuova mossa prima le facevamo normali adesso le mosse se le metto a 90 gradi bene 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 Grazie a tutti 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 Potevo portare l'elio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti 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 Un momento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti